Questo video riguarda i migliori 3 lavavettri con batteria. Il vincitore della qualità è il MamiBot 120WT. 3 modi di utilizzare il MamiBot W120T. Funzionamento chiave, funzionamento tramite telecomando entro un raggio di 15 metri, funzionamento tramite app MamiBot per iOS e Android. MamiBot IGLASSBOT W120T può pulire un metro quadrato in circa 2 minuti. Durante la pulizia, si sposta in modalità Z o N. Grazie all'intelligenza artificiale, calcola il percorso di pulizia ideale e passa automaticamente dalla modalità di navigazione. W120T può essere utilizzato su superfici diverse molto più di un semplice robot per pulire la finestra. Il robot di pulizia per finestre MamiBot può essere utilizzato su varie superfici come vetro, piastrelle e persino legno. Un motore brushless a lunga durata genera un'elevata potenza di aspirazione di 3000 PA. Pertanto, il robot per la pulizia dei vetri MamiBot W120T, che pesa solo 1,5 kg, può facilmente aderire alle superfici verticali. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Alphabot 17. Lavavetri Robot con pulizia automatico intelligente. Pianifica automaticamente il percorso di pulizia, adatta alla finestra interna e esterna, finestra alta, pareti eccetera aiutarti a pulire i luoghi difficili da raggiungere più facilmente. Robot Lavavetri Elettrico Alphabot, pulizia efficiente con spruzzo automatico. Il serbatoio d'acqua è da 28 ml e abbastanza per una completa pulizia. L'acqua può essere spruzzata quando sposta a destra, solo quando il serbatoio è pieno di acqua. Il robot lavavetri spruzza acqua muovendo ad alto. Robot Lavavetri Automatico Alphabot X7 per la pulizia di multisuperfici, adatto per superfici lisce come finestre, porte, pareti, specchi, eccetera. Non adatto per le superfici curve e inclinate. Lavavetri Robot per finestre è controllato dal telecomando, grazie al funzionamento con il corrente, alla grande aspirazione di 3000 PA, aderire al vetro fissamente. Il rumore basso a 65 dB. Il vincitore del premio è il Karker WV6. Karker ha migliorato ulteriormente l'originale Windevax sviluppando un modello ancora più flessibile, caratterizzato da una tecnologia con labbra in gomma e durata maggiore della batteria, WV6. La nuova bocchetta di aspirazione più lunga consente di rimuovere il fluido in eccesso con una carica. Questo lavavetri permette di pulire in modo particolarmente igienico, non entrando in contatto diretto con l'acqua sporca. L'innovativa tecnologia labbra rende la pulizia ancora più flessibile, ideale per pulire fino ai bordi. Le labbra in gomma possono essere rimosse in modo semplice dall'ugello di aspirazione e pulite dopo ogni utilizzo. Batterie e caricabatteria.Flacone spray per distribuzione omogenea del detergente sulle superfici.Panno in microfibra Campione di detergente La durata extra di 100 minuti della batteria consente una pulizia ininterrotta e il display LED permette di monitorarne lo stato di carica. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.